Taranto, Villa Peripato, lo sportello del cittadino è qui, nei pressi, proprio alle nostre spalle, dei resti, dei reperti archeologici di epoca romana, completamente abbandonati all'usura del tempo e anche all'incuria generale, perché vorrei vedere se in altre città italiane un patrimonio archeologico così fatto viene tenuto così, abbandonato, quasi un uomo della strada potrebbe pensare che si tratti di semplici pietre, così di materiale di risulta. Dottor Francesco Pasculli, agronomo, ma così dobbiamo far rinascere Taranto? È la domanda che tanti cittadini si chiedono, è come dire avere delle perle e darle ai porci, non saperle sfruttare. No, è proprio così come ti dici tu Luigi, cioè noi dobbiamo, promettiamo che la Villa Peripato, nei suoi tre ettari, 30 mila metri quadrati, rappresenta l'antico piano di Calpessio della Taras Magno-Greca, quindi noi qui praticamente ci troviamo su una parte appunto dell'antica millenaria Taranto. Questi reperti archeologici che noi abbiamo qui, in realtà, sembrerebbero, come hai detto tu, delle pietre, delle semplici pietre, ma questi appunto in realtà sono dei reperti di epoca romana. Né si mette un cartello, un'insegna, giusto per? Non c'è nulla, poi clamorosamente vediamo che recentemente sono state anche spostate come se fossero appunto dei semplici massi, ma in realtà non è così. Qui addirittura non c'è più il busto di Giulio Cesare, è sparito. È sparito il busto di Giulio Cesare e come sono spariti purtroppo sono stati devastati anche le antiche erredi di questa villa. Ricordiamo uno dei primi parchi urbani d'Italia del 1913 e è inserito tra i 100 parchi più belli d'Italia. È indubbio che in questa villa c'è da fare molto lavoro perché è un gioiello, in questo momento sicuramente non curato purtroppo, ma è un parco che potrebbe diventare veramente molto importante per la nostra città a livello turistico. E allora, torno a ridirlo, Taranto senza Ilva? Certo, Taranto con il patrimonio archeologico e il turismo da valorizzare. Le possibilità ci sono, forse è la volontà che manca, anzi sicuramente.